Allora, vedi, qui ci sono questi due segni che indicano la presenza di una maniglia, prima, perché qua giù c'era una scala che andava e praticamente c'erano i candelieri sopra l'altare e le candele facevano cadere tutte queste gocce di cera che poi con il tempo si sono annerite. Ecco, qui ci sono questa e questa, sono i due segni, le tracce delle stuccature lasciate dalla maniglia quando l'avevano messa per poter salire attraverso le scale. Ecco, poi vedi, tutte queste macchie, queste cose scure, queste macchie scure che si vedono, le mappiamo e poi, insomma, sì, sono... Queste, allora, segni le varie stuccature qui del braccio, questa qui più scura, poi anche queste, questa integrazione che c'è qua su. Grazie. 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 Grazie.